Ciao ciao raga, ciao! Eccoci in un altro video haul Sono andata di nuovo dai miei cinesini di fiducia qui vicino a casa mia Oggi è sabato, adesso è sabato mattina in questa ridente ma poco solare cittadina del sud-est asiatico non mi viene mai cittadina della periferia est di Milano molto bene, ok ce l'ho fatta ma prima non ce lo vogliamo dare un veloce sguardo al look e al make up io direi di sì, ci ho messo un'ora in mese no, però quasi allora vediamo un po' se li trovo sì, la palettina, questo trucco occhi l'ho fatto con questa palettina della Human Decay ok? Mi piace tanto ho messo a posto un po' la postazione quindi ho rimesso via tutte le palette che avevo qui fuori perciò adesso non ho sempre la stessa qui, anzi non so neanche di più la definita ma sicuramente qui dentro e comunque ho usato questo, un po' di nero anche un po' di questo e come rossetto lo 03 Metal Shock di Essence questo non ho le unghie fatte molto bene, le farò e che rimetto al suo posto ecco magari ho girato al contrario poi orecchini, vedete qua mi è arrivato anche un orecchino che si mette qua sopra finto da Wish che è anche questo di Wish e quindi l'ho messo anche l'anello di Wish ok? le unghie vabbè le farò questa con lana ricevuta da Wish compro un sacco di cose da Wish peace and love e la maglietta invece vabbè quella vecchia siccome sono appena tornata ho ancora i jeans non mi sono cambiata e i miei stivaletti i bikers neri che avevo comprato da scarpe scarpe se non erro dunque un video bene partiamo in quarta farvi vedere che cosa ho comprato dai cinesi che è sempre la Max Factory Max Factory vicino a casa mia allora vediamo il primo sacchettino ma no questa non c'entra è il cappuccio del mio giacchino niente che avevo sempre comparato qui tra parentesi allora vediamo allora questo golfino maglioncino ho preso una S e costa 19,99 no a casa mia 20 sul nero grigio molto scuro o nero con la rosa dei venti nord, sud, est, ovest per non perdermi per non perdermi quando torno a casa quando accompagno mio figlio ha pure la targhetta quindi bello mi piace carino con queste cose al fianco e questi ai bordi poi c'era il 50% di sconto sulle camicie come potete vedere e quindi invece di 19,99 cioè invece di 20 l'ho pagata 10 questa la S ed è una semplice camicia scozzese col collettino sui toni dell'azzurro blu con dentro anche del bordeaux così almeno il trucco viene una magnificenza poi altro maglioncino questo 15,99 a casa mia 16 non mi freddi ho preso SM è morbidissimo senti che roba sempre con una stella però normale questa non è la rosa dei venti è una stella normale abbastanza largo questo comodo comodissimo poi ah un altro maglioncino giusto un altro maglioncino SM questo a 12 euro guardate un po' se non mi credete 11,99 a casa mia 12 sempre grigio però chiaro e con il collo alto con una lavorazione qui in mezzo comunque a costine a costine con questa lavorazione particolare sul collo ok arrivo subito per quindi i vestiti le cose per vestirmi ve le ho fatte vedere tutte adesso vi faccio vedere che cosa ho comprato da altro ho comprato una nuova ciotola per i miei amori pelosi eccola qua grigia non c'era bianca mi spiace e neanche un grigio più chiaro comunque va benissimo questa questa la metto per terra due ciotole le riempio sempre d'acqua mentre una serve per la papa di Tobia che lui mangia giù per terra giù per terra comunque questa la ciotola nuova perché l'altra era proprio veramente non si poteva neanche più lavare da quanto fosse sozza cinesi uguale tappetini per Tobia che costano poco ve lo ho fatto vedere anche in un altro video sono 60x60 ce ne sono dentro 5 e ne ho presi 3 ne ho prese 3 confezioni voilà poi aspettate che tolgo le ultime cose allora praticamente ok ho preso vi ricordate l'altra volta vi ho fatto vedere gli evaporatori ma non avevo preso il profumo e quindi questa volta ho preso questo che sarebbe Ocean Breeze ah Ocean Breeze certo la brezza dell'oceano poi sentiremo no voi no io sentirò che profumazione è poi ho preso anche questi due questi sono proprio oli profumati uno alla fresia e uno all'ambra e intanto saluto la mia amica ambra che fa sempre video a due è vero conosco due ambra qui su youtube un bacione per ciascuna molto bene quindi anche queste profumazioni poi sentirò quale mi piace di più e poi vi devo far vedere una cosa e ho finito praticamente sono i regali per Alessia per il compleanno di Alessia ma quando vedrete questo video il compleanno sarà passato e quindi posso farli vedere praticamente l'altra volta ho comprato la scatola dove infirarli dentro io le ho comprato delle stoffe queste sono fodere per cuscini però dopo lei le smembra e le fa diventare anche delle midori o quello che vuole lei non c'è nessunissimo problema quindi la prima ha questa fantasia eccola qua lei le smembra tutto non c'è problema quindi questa con i gufettini eccola qua è così vedete anche qua che fa diventare delle midori e questa che praticamente era oddio no stavo togliendo il cartoncino no è quella della mia midori che è almeno uguale o simile ai colori perché c'è scritto lavanda secondo me è uguale precisa identica con la quale ha fatto la mia midori questa stoffa lavander c'è scritto vedete ha dei colori fantastici mi piace tantissimo e e questo sarà il regalo di Alessia poi magari metterò dentro qualcosina vediamo vediamo tanto ho ancora un giorno di tempo per per trovare qualcos'altro comunque questo è il regalo principale perché non serve fare chissà che cosa come regalo per volersi bene e questo credo che la farò felice comunque perché le stoffe le piacciono moltissimo quindi io ho finito anche questo video haul per oggi vi ringrazio per avermi seguito ed ascoltato fino a qui un bacione immesso se vi va ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao raga